Mercoledì 17 maggio, undicesima tappa del Giro d'Italia numero 100, partenza da Firenze e Ponte Aema alle ore 12.35 ed arrivo a Bagno di Romagna, Furlicesena, dopo 161 km di corsa. I ciclisti attraverseranno le province di Firenze, Arezzo, per arrivare a Bagno di Romagna per le ore 16 e l'arrivo definitivo intorno alle 17, percorrendo la strada provinciale 4, la strada provinciale 43 e la strada regionale 71. Un po' di pazienza perché le strade verranno chiuse al traffico due ore prima del passaggio della corsa. Ci vediamo in giro!